Golf Sport di Libertà, il progetto che coinvolge per ora 15 detenuti della casa circondariale di Pescara e che per 18 mesi avranno la possibilità attraverso lo sport di reinserirsi nella società. A fine progetto avranno anche la possibilità di conseguire attraverso un esame la certificazione per il brevetto come istruttori sportivi. Attraverso questi progetti detenuti si riappropriano anche dei loro diritti? Sì, è uno strumento vincente quello di portare lo sport all'interno del carcere. Infatti grazie all'associazione abbiamo potuto implementare l'attività all'interno del carcere che è molto importante. Soprattutto non è solo fine a se stessa, solo per attività sportiva perché durante questo percorso di formazione avranno la capacità, la possibilità di avere un patentino e l'indomani quando usciranno potranno anche esercitare l'attività di istruttori. Quindi è vincente su tutti i punti di vista. Un grande progetto che Sport e Salute sta avviando su tutto il territorio nazionale. In Abruzzo abbiamo cinque di questi progetti, di cui tre sono rivolti a comunità educative e due riguardano le case circondariali come questa di Pescara e domani poi ci sarà anche Teramo. È un progetto che sicuramente per quanto riguarda il discorso inclusivo che rientra nella mission primaria di Sport e Salute e soprattutto che riguarda principalmente il benessere fisico e psicosociale del cittadino in generale. Dare delle opportunità attraverso lo sport, che è un grande maestro di vita lo sport, non solo fisico naturalmente, insegna le regole, il rispetto delle regole, è una grande opportunità.